Fantastico, c'è un creeper! Ehi, ma che cosa ti è successo alla faccia, scusa? Ehi, ma che... Ma dove cavolo sono finito, scusate? Quella è una casa di terra! No, ma non esistono le case di terra su Minecraft, figurati! Esistono soltanto i villaggi dei villager! Questa è una vera e propria magione, eh? Cos'è quella statua? Oh, porca miseria, ragazzi! Penso di aver capito dove mi trovo! Sono entrato all'interno di un mondo per nabbi! Che cosa ci faccio io qua? Io sono un imperatore, non dovrei trovarmi all'interno di un mondo per nabbi! E quindi presumo che tutto quanto qui sia più facile! Che è impossibile morire! Giusto? Sì, 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 ora ve lo faccio vedere io come si muore su Minecraft! E tanto figurati se non muoio entrando nella lava! 3, 2, 1... Tuffo nella lava! Eh? No, 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 no! Come? La lava mi rigenera la vita! Beh, allora in magma block! Sì, 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 loro sì! Neanche! Eh, scusa? Ok, va bene! Ha reso la lava a prova di bambino! Ma ciò non significa che non possono esistere degli altri modi per uccidersi! Ecco, infatti qua c'è l'acqua! Perfetto! Annegheremo ragazzi! Restiamo sott'acqua adesso! E vedrete che tra non molto inizierò a perdere vita! Giusto? Non sto perdendo vita! Ok, perché non perd... Wow, wow! Ma cos'è questa super velocità? Questo sono diventato un delfino! Come? Wow! Oh, oh, ok, ok, ok! Evidentemente l'acqua è mia amica! Bene! Maledizione a queste versioni per nabbi! È tutto così facile! È troppo facilitato! Ma che cavolo... Ma è una cesta fatta di terra! Ok, spada di terra! Bene, indossiamo tutto quanto a questo punto! Non ci posso credere ragazzi, non ci posso credere! Sono diventato ufficialmente un nabbo! Beh, visto che il mondo è facilitato, cerchiamo di scoprire tutti quanti i suoi vantaggi! Per esempio, qua ci sono le farm! Un nabbo ha bisogno di tanto cibo per rigenerare la vita e sopravvivere! E quindi queste farm sono infatti enormi! Praticamente infinite! Bene! Oh, una mela! Che bellina! Gnam 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 gnam! Cosa? Una mela normale mi ha dato i poteri della mela d'oro? No, vabbè, dai! Ma quanto è facile allora questo mondo? Perché c'è un... Perché c'è un golem di terra? Che chiaramente non mi attacca! Figurati se il golem prova ad attaccarmi in un mondo per nabbi! Te lo faccio vedere io il mondo per nabbi adesso! Sicuramente da qua muoio! Salta! E... Addio! Addio, Kendall! Cosa? Soltanto 5 cuori di danno da quell'altezza! Ho un'idea! Per morire mi basterà non mangiare mai nulla, così non rigenero la vita! Oh! C'è un Enderman! Benissimo! Mi ucciderà lui! Guardiamolo negli occhi! Eh? Dai, ammazzami! No, 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 no! Che fai? Hai paura? Ammazzami! No, ma non puoi scappare! Ti sto guardando negli occhi! Enderman! Ma che cavolo? Ma scusa! Ma i mostri in questa versione sono inutili! No! Ma che... Pensavo fosse Aerobrine! Ma che cavolo sei tu? Eh... Ok, questa è la sua macchina! Perché c'è una macchina in un mondo di Minecraft? Va bene, non mi faccio domande ragazzi! Va bene così! Dirt che ti dà la saturation! Quindi mi stai dicendo che non ho bisogno di mangiare se ho un blocco di dirt in mano! Ma dai! So esattamente cosa devo fare! Aspettiamo la notte e ci penserà un Creeper a uccidermi! Sì, sì, sì! No, aspetta! Non ho capito! Il mio scudo fa del danno a tutti i mostri che provano ad attaccarmi? Ehm... Non ha senso! Beh, allora, dai! Creeper, mi raccomando! Fammi esplodere! Rendimi orgoglioso! Ma che? No, 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 no! Ma che? Ma mi ha dato la TNT! Cos'è successo a quel Creeper? Ma ragazzi, tutti i mostri sono diventati scemi! Ma guardateli in faccia! E prendono danno se vanno contro il mio scudo! Sono letteralmente immortale! Mi basta utilizzare uno scudo per uccidere tutti! Anche tu sei scemo! Fatti vedere in faccia! Ragno! Guarda! Mi shift e prende danno! Non è possibile! Non ha senso! È troppo facile così! Che cosa mi ha dato? Mi ha dato un uovo! Un uovo di ragno amico! Ehm... Ok! Il ragnetto ha fame e dagli una stringa! Tieni! Quindi lui adesso mi proteggerà dai mostri ostili! No, non ci posso credere! Guarda che ci prova! Va contro il Phantom ma non ci riesce! Vai, ragnetto! No, no, no! Non prendere danno contro di me! Vabbè, oh! A questo punto, visto che sono immortale, non mi resta che esplorare la mia casetta! No, vabbè! Cioè, questo c'è un portale dell'end in casa! Ma tra l'altro non si fa neanche in questo modo il portale! Cos'è? 4 a 4! Dai, vabbè! Ma ragazzi, ma qua è palese che ha utilizzato i comandi e la creativa! Va bene, dai! Entriamo! A questo punto! Wow! Ma che cavolo! No, no, no! L'end non è così su Minecraft! Questo è l'end per nabbi con un ponte addirittura per proteggerti così non cadi nel void! Ehi, aspetta! Mi sta venendo un'idea! Certo! Se io mi butto giù nel void, lui non può mica fermarmi! Morirò! Ok, perfetto ragazzi, il video è completato! Abbiamo finito... Non sono morto! Ma come non sono morto? Mi sono buttato nel void! Dai ragazzi, ma... Cioè... Ma posso uccidere il drago con un'armatura di dirt? Evidentemente sì! Evidentemente sì! Vieni qua, raghetto! Tanto ho come l'impressione che lui non mi farà assolutamente danno! Secondo me non si muove neanche! Resterà fermo qua tutto il tempo per farsi uccidere! Non ci posso credere! Ragazzi, ma che cavolo di versione è! Oh, però mi si sta rompendo la spada! Ora come faccio? Devo usare l'ascia! Avete mai visto qualcuno uccidere il drago con un'ascia di legno? Anzi, di dirt? No! Ok, usiamo il piccone! Non si muove ragazzi! Si sta lasciando uccidere! Hai completato il gioco! Ma va! Era fin troppo facile così! Ok, grande drago! Questo vuoi vedere che tipo me lo dà direttamente nell'inventario? No? Ok, pensavo di sì, vabbè! Prendiamo una torcia e adesso lo otterremo alla vecchia maniera! Così, metti la torcia qua! Rompi questo! Grazie! Ma io non ci posso credere! Guardate! Hanno praticamente creato un sistema per rompere tutte quante le torrette del drago con facilità! Senza dover fare i ponti! No, perché le hanno già fatti loro i ponti! Usi le scale! E ti collegano tutte quanti le varie torri! Ma! Dai! Cioè, ma poi guardate! Non sono neanche attivati! Io sono senza parole! Ma cos'è successo alla tua faccia? Mi dispiace, pollo! Dovrò sfogare la mia rabbia su di te! Muori! No, ho detto... Muori! Pollo! Ma che cavolo... Ma ragazzi, si... Si autorigenera! Lo uccido e rinasce! No, pollo... Io non ci credo! Odio questo mondo, ragazzi! Odio il mondo per nabbi! Io sono un imperatore e sono fatto per giocare nei mondi per pro! Beh, però ho trovato il portale del land, ma non ho ancora trovato il portale del nether! Ed essendo questa la casa di un noob, vuoi che non ci sia anche il portale del nether? E infatti avevo ragione! Oh mio Dio, è gigante! Eh... Lo sapranno i nabbi che i portali si possono fare anche più piccoli? Vabbè, entriamo perché sono curioso di vedere che cosa ci troveremo dentro! Sicuramente ha tanta terra, tante cose inutili... Dove sono? Oh, oh, oh! Un'altra casetta di terra, pazzesco! Però, devo dire, nonostante sia fatta totalmente di terra, almeno sembra accogliente! Wow! Che cos'è sto ponte? Oh mio Dio... Diamanti? Aspetta... Eh? Prima di tutto, che cavolo ci fanno i diamanti nel nether? Eh, secondo di tutto, perché sto rompendo i diamanti con un piccone di terra? Maledizione, sono diventato un noob anch'io, ragazzi! Evidentemente è contagioso! Non giocate a queste mappe, perché sennò potreste diventare anche voi dei nabbi! Allora, vediamo dove mi porta questo ponte, bellissimo! Anche qua presumo che sia impossibile morire! Sì, del resto, se mi butto nella lava, non prendo danno! Se mi sfracello sul terreno, non prendo abbastanza danno da morire! Se mi butto nel void, non muoio! E che cos'è? Tipo un'arena da combattimento? Oh, uno spawner di Blaze! Ma secondo voi loro mi fanno del danno? Ho comunque l'impressione di no! Forza, signori Blaze! Uscita, l'ho scoperto! Oh! Ok, prendono danno dal mio scudo! Mi possono anche attaccare? Io non ho più lo scudo! L'ho tolto! Ehi! Ragazzi, lo tolgo se volete! Continuano a prendere danno da soli, semplicemente con la mia presenza! Sì, ma ragazzi, non mi attaccano! Non mi stanno attaccando! Dai, ma è troppo semplice così! Cioè, in questo modo posso farmare tantissime Blaze Rod e entrare nel land, anche se in realtà ci sono già entrato! Ma perché questo è piccolino? Ma che cavolo? Non ho mai visto i Blaze piccoli! Allora, vediamo, secondo me c'è dell'altro da esplorare, ne sono abbastanza sicuro! Che dite, ci buttiamo? Tanto non posso morire! Io mi butto! Ecco, infatti non mi sono fatto assolutamente niente! Anzi, è piuttosto morbido! Una bella fortezza del Nether! Vediamo se almeno qui riuscirò a morire! Tanto qua ci sono gli Skeletri Wither, giusto? Skeletri Wither... Eccoli! Ok, loro mi ammazzeranno sicuramente! Dai, venite qua, forza! Attaccatemi! Dai, non mi muovo neanche, guarda! Oh, cosa? Ehi! Ma, no, 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 no! Era due Skeletri Wither, perché sono diventati scheletri normali? Sentite, eh? Io ce l'ho scudo! E se uso lo scudo, vi faccio del male! Gli rimbalzano contro le frecce, non ci posso credere! Ma morite! Perché c'è un mini-scheletro? Cosa sta succedendo, ragazzi? Ma in che versione mi trovo? Aspetta... Ma... Droppano archi potentissimi! Potenza 3 infinito! Ogni singolo scheletro che ho ucciso fino ad ora mi ha dato un arco incantato, anche lui! No, ragazzi, cioè, è pazzesco! È OP questa roba! Beh, ragazzi, devo dire che per essere il mondo dei nabbi, mi sono divertito abbastanza! È molto, molto carino! Anche se le case di terra proprio non si possono vedere! Per favore, cioè, la prossima volta entrano nel mondo dei pro, così avrò una bella casa in diamante! Spero che questo video vi sia piaciuto! Da me, ai miei delfini è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video! Ciao!